Avevano messo a segno una raffica di furti in appartamento, adesso sono finiti in manette tre uomini, uno dei quali aveva il reddito di cittadinanza. Sono stati anche recuperati 30.000 euro di refurtiva, così si è chiusa l'indagine dei carabinieri di Sansepolcro. Secondo quanto ricostruito dai militari, i ladri, dopo alcuni arresti nei mesi scorsi per fatti analoghi, avevano affinato la loro tecnica. Infatti, i troppi controlli in zona avevano consigliato loro di arrivare dall'Ai45 solo il tempo necessario per lasciare i complici a piedi. Dopo aver colpito velocemente un paio di appartamenti e preso ciò che riuscivano a portare via, venivano recuperati dai loro complici a qualche chilometro di distanza, ma non contenti continuavano le loro scorribande proseguendo in altre città. Non sapevano però di essere stati già individuati dai carabinieri che erano in collegamento con i colleghi delle province colpite e stavano solo aspettando l'occasione giusta per prenderli. Così, ieri, quando i carabinieri di Sansepolcro li hanno individuati, mentre erano di ritorno in direzione sud sulla E45, hanno iniziato il lungo pedinamento durato più di 30 chilometri fino all'uscita sud di città di Castello. Qui li hanno fermati. A bordo del veicolo hanno trovato di tutto, diamanti, orologi d'oro, manchi borsette da donna, televisori in plasma ed alcuni grammi di hashish. Ovviamente i tre, tutti di origine slava, non hanno saputo dare una spiegazione del possesso di quegli oggetti e sono stati arrestati. Tutti gli oggetti sono stati invece sequestrati, dopo le formalità di rito potranno essere restituiti ai legittimi proprietari.